Benvenuti cari follower a questo nuovo video attraverso il quale vi informeremo sulle previsioni meteo più importanti in Italia per domani giovedì 2 marzo 2023 ma prima di guardare questo video non dimenticate prima di sostenerci con ammirazione per questo video e condividetelo con tutti per trarne vantaggio quindi per domani giovedì durante la mattinata forti piogge in Sardegna, Palermo e anche sulle coste meridionali del Tirreno con rovesci di neve all'estremo nord e il tempo piovoso continuerà ad intervalli nelle aree precedentemente menzionate e la situazione si intensificherà maggiormente nelle regioni del sud Italia con forti piogge, neve e tempo molto freddo e queste oscillazioni meteorologiche continueranno almeno fino alla fine della settimana e questo come ho detto è in attesa di un'altra tempesta di neve più potente all'inizio della seconda settimana di marzo di cui vi forniremo i dettagli in seguito e voi state sempre in buona salute